ciao bentornati sul mio canale mano libera a teglia di barbara oggi vi accompagno nella tre terza lezione dedicata all'uncinetto e vedremo il punto mezzo alto seguitemi ecco che presentiamo e vediamo come fare il punto mezzo alto nelle indicazioni all'uncinetto il punto viene indicato con un trattino un po più alto abbiamo visto che il puntino il punto catenella il trattino basso è il punto basso e questo è il punto mezzo alto l'esecuzione è questa anche qua per comodità ho usato una lana grossa così nel video vedete bene come fare questo punto prendiamo il filo alla stessa maniera come preso per la maglia al metodo tedesco potete vedere un mio video dove spiego esattamente come tenere le dita a questo punto sono qui entro nella catena scusate metto prima il filo attorno all'uncinetto entro nella catena esco e qui ho tre asole una due tre prendo ancora una volta una volta al filo entro in tutte e tre una due tre stessa cosa riprendo il filo entro nella catena prendo il filo con l'uncinetto la catena è una due tre tre asole prendo con l'uncinetto il filo entro in tutto e tre di fila una, due e tre, la terza volta, prendo il filo, entro, ripesco il filo, entro in un colpo solo in tutte e tre, una, due, tre. Mi auguro che questo video vi sia servito per imparare questo nuovo punto, chiaramente iscrivetevi al canale per non perdere i video successivi che vedremo imparare altri punti dell'uncinetto e chiaramente seguitemi anche sui social e a presto, ciao!